Nelle scorse ore si è diffusa improvvisamente dalla Francia una notizia poi confermata anche in Italia perché il portale LDS Sport che si occupa molto anche di mercato, di calcio mercato ha parlato di una trattativa concreta ed avanzata tra il Rennes e l'entourage di Diego Godin classe 86 in scadenza di contratto nel 2022 con l'Inter per darvi qualche dettaglio sul calciatore il portale francese nello specifico dice che il Rennes grazie anche ai soldi derivanti incassati dalla qualificazione alla prossima Champions League 2020-2021 visto che il Rennes se non lo sapete si è qualificato arrivando terzo chiudendo terzo in campionato nell'ultima Ligue 1 che si è conclusa in maniera particolare diciamo così il Rennes sta lavorando in questi giorni ad un mercato molto molto ambizioso tra l'altro c'è un tentativo concreto anche su Jeremy Bogat del Sassuolo che viene corteggiato da tanti top club e c'è anche il Rennes che vorrebbe Bogat la squadra il Rennes è una squadra molto giovane l'età media se non vado errato è attorno ai 24,3 anni secondo dati di Transfer Market che porta il Rennes ad essere la quart'ultima squadra per esperienza solo tre squadre sono più giovani mediamente del Rennes che ha in squadra giocatori diciamo oltre all'ex romanista Steven Zunzi centrocampista francese ci sono pochi calciatori abituati al grande parco scenico della Champions ovviamente quindi stanno cercando dei calciatori d'esperienza per guidare la difesa nel caso di Godin in generale la squadra quindi per far bella figura in Champions e ovviamente confermarsi anche tra le top francesi e appunto per la difesa in particolare avrebbero individuato in Diego Godin il grande obiettivo per aumentare il tasso anche tecnico della squadra perché dicono sempre in Francia l'Inter potrebbe liberare agevolmente il difensore uruguayano la notizia come vi accennavo in apertura trovato poi conferma anche in Italia con Gianluca Di Marzio esperto di mercato che ha parlato di contatti avviati sia con l'entourage del giocatore che con l'Inter per capire la fattibilità dell'operazione e tra l'altro sembra che ci siano state anche delle prime aperture questa quindi è la notizia che va tra l'altro a confermare anche le sensazioni che vi avevamo riportato nelle scorse ore su PassioneInter.com e che potete ritrovare anche in uno degli ultimi video che abbiamo pubblicato sul canale YouTube di PassioneInter dal titolo i dieci nomi caldi del mercato dell'Inter lo trovate abbiamo parlato proprio lì anche di questa situazione l'aria che tira attorno al nome di Skriniar diciamo così dal punto di vista del mercato sta cambiando che avevamo già detto nel senso che dopo le voci di una possibile anzi probabile eccessione veniva definita perché Skriniar non era funzionale alla difesa 3 di Conte lo scenario vi avevamo detto stava un po' cambiando con uno Skriniar più vicino alla chiamiamola blindatura non è un termine bellissimo diciamo però blindatura queste sono quindi le notizie che ci portano a fare delle riflessioni io vi do la mia opinione poi voglio sapere cosa ne pensate voi e voglio leggere i vostri commenti qui sotto cedere Godin sarebbe un vero peccato almeno secondo me non solo perché sono un grande fan di Diego Godin ma perché tra l'altro per me Godin ha dimostrato di poterci ancora stare alla grande nonostante i 34 anni compiuti va verso i 35 nel 2021 si è rimesso in gioco non più giovanissimo con ottimi risultati reinventandosi in un ruolo che non aveva mai fatto tanto da meritare il posto da titolare per tutto il finale di stagione delle sfide più importanti tra l'altro chi ci segue da tempo sa come la penso su Godin ovvero le prestazioni negative che in tanti avevano detto anche nella prima parte di stagione quando giocava un po' meno io sinceramente ne ricordo poche di prestazioni negative di Godin anche nella prima parte di stagione pulito, preciso, attento anche nel nuovo ruolo e dove non arrivava con il fisico ci arrivava con la grandissima esperienza che ha acquisito in questi anni e a proposito dell'esperienza tra l'altro proprio ora che stiamo dicendo che a questa squadra manca esperienza ad alti livelli e vanno aggiunti innesti mirati anche da questo punto di vista perdere uno dei calciatori più esperti ed affidabili in rosa sarebbe un po' un controsenso però c'è un però, Godin dicevamo è stato di fatto reinventato in quel ruolo e nella seconda parte di stagione è andata bene perché ha risposto bene cosa accadrà però la prossima stagione? Godin andrà per i 35 anni, un anno in più sarà a 35 anni ancora una garanzia per tutta la stagione? siamo sicuri che potrà fare un intero anno da titolari in un ruolo così dispendioso? ne parlavamo con Beppe Bergomi in un'intervista che abbiamo pubblicato anche sul nostro canale YouTube qualche tempo fa e lui ci diceva guardate che il ruolo che sta facendo Godin io l'ho fatto per una vita diceva Bergomi, si corre e si fa tanta fatica e per un giocatore non più giovanissimo non è facile quindi è un'incognita da questo punto di vista da questo punto di vista a tal posito quindi qual è il mio pensiero e magari chi lo sa anche la valutazione che si sta facendo all'Inter meglio rischiare di partire con un Godin titolare e svalutare o sacrificare un asset importante per il presente e per il futuro come Miran Skriniar o magari sarà meglio pensare di retrocedere passatemi il termine Godin e riprovarci con Skriniar che comunque è vero non ha fatto bene nella difesa 3 ma riportato a destra era in crescita secondo me e comunque è un classe 95 quindi ha grandi dote fisiche e può crescere in quel ruolo dove tra l'altro con due difensori su tre che saranno abili ad impostare vedete Frai e Bastoni o Colaro questa è la sua alternativa averne anche uno un po' meno tecnico può anche starci secondo me diciamo quindi per arrivare un po' alla conclusione di questo ragionamento che volevo fare insieme a voi per me la soluzione ideale sarebbe quella di rimanere così come siamo nel senso che comunque abbiamo chiuso con la miglior difesa del campionato quindi la difesa non sarebbe il primo reparto che andrei a toccare e confermerai in blocco sia Skriniar da titolare e Godin come grande alternativa di esperienza considerando però che Godin ha dimostrato appunto di essere ancora caldo diciamo così accetterà poi di fare il panchinaro e di respingere offerte come può essere ad esempio questa qui appena arrivata del Ren che lo farebbe giocare da protagonista in Champions non lo so, questo è un dubbio nel dubbio ok il voler vincere subito siamo tutti stufi di non vincere da ormai troppi anni però per me la Dio Skriniar rischia di diventare tra i due il grande autogol probabilmente anche in ottica futura anche se allo stato attuale delle cose permetterebbe di avere più diciamo libertà di azione sul mercato perché una partenza di Skriniar viene monetizzata molto di più rispetto a quella di Godin che sarebbe quasi totalmente un risparmio di ingaggio non penso che per quanto riguarda il cartellino arriverebbero grossi cifre soprattutto dal Ren ma poi aggiungo io Skriniar lo devi anche sostituire con un calciatore che deve arrivare per fare il titolare o quasi secondo me in questo momento la Dio di Godin quindi come detto libererebbe un piccolo spazio sicuramente inferiore e sacrificando secondo me poi qualcun altro al centrocampo al posto di Skriniar si potrebbe sopperire a questa mancanza di introiti soprattutto dicevo al centrocampo perché è il reparto in cui c'è maggior affollamento in questo momento ci sono tanti più calciatori e tanti più calciatori francamente cedibili quindi questa è la mia opinione sulla situazione la notizia quella che vi abbiamo detto del Ren in trattativa per Godin fatemi sapere che cosa ne pensate scrivetemelo nei commenti e ovviamente ricordatevi di cliccare sul pulsante iscriviti tutti i giorni siamo in diretta alle 19 ogni giorno nuovi contenuti che trovate anche in formato podcast su Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast grazie a tutti